Lunedì 3 ottobre parte un nuovo spazio su Rossini TV, uno spazio settimanale 5 lunedì d'ottobre in compagnia dello spazio salute San Decenzio con delle pillole che in ambito medico e farmaceutico significano una cosa precisa. In questo caso sono invece dei piccoli assaggi di quella che è l'attività dello spazio salute San Decenzio. Sì abbiamo deciso di fare questa collaborazione con la TV con Rossini per spiegare un po' quello che facciamo quindi ci sarà una puntata dedicata alla parafarmacia quindi la farmacista ci spiegherà un pochino quali sono i servizi e i prodotti del nostro punto vendita. Poi avremo un appuntamento con il fisioterapista che ci illustrerà un pochino quali sono le sue tecniche di terapia per migliorare la salute dei suoi pazienti. Poi avremo una puntata sulla medicina estetica della parte della dottoressa Maria Rosaria Serra che anche lei ci parlerà un po' di quello che fa e dei suoi servizi, macchinari che usa queste cose qua. Un'ultima puntata presenteremo il nostro personal trainer e quindi la palestra che è il nuovo centro medico che abbiamo qua alle mie spalle e ci spiegherà un pochino anche lui come utilizzerà il tempo con chi vorrà scegliere questa palestra per migliorare il proprio corpo e la propria salute. E dunque 5 lunedì, il primo lunedì 3 ottobre alle 20.10 è proprio dedicato a Giovanni Oliva qui presente che darà una infarinatura di quella che è l'attività. Non volevo dirlo questo però me l'hai detto e sì diciamo che spiegherò un pochino come è nato lo spazio salute, come si è evoluto e come crescerà quindi tutte le fasi del figlio spazio salute e di come diventerà poi nel futuro.